Una buona serata ai telespettatori di Seila TV e benvenuti nello spazio informazione. A voi il sommario con le notizie più importanti della giornata. Omicidio di Sharon saranno ascoltati tutti i residenti della zona e il compagno da ore in caserma dei Carabinieri. Bimbo di due anni maltrattato, arrestati la madre diciottenne ed il compagno. Morti i due cigni del laghetto nel parco della trucca, sconosciute le cause. Bergamaschi in vacanza verso il sud Italia ma anche all'estero. Domani la Supercoppa europea contro dei Marziani ma noi siamo l'Atalanta. Partiamo con le novità che riguardano l'omicidio di Terno d'Isola di Sharon Verzeni. Saranno ascoltati tutti i residenti della zona dove è avvenuto l'agguato dell'assassino ancora sconosciuto. E nelle ultime ore la novità del colloquio, dell'interrogatorio, meglio, del compagno Sergio Ruocco in caserma dai Carabinieri. Ma vediamo come stanno proseguendo le indagini. Sharon quella sera maledetta decise di uscire di casa a mezzanotte con il compagno già addormentato nella stanza di casa. Fece un giro di 50 minuti prima di arrivare in via Castegnate dove l'assassino la colpì quattro volte. Ancora in piedi, Barcollante attraversò la strada verso il civico 32, chiamò il 112 e chiese disperatamente aiuto. Poi rovinò a terra e venne soccorsa da due ragazzi che a loro volta chiamarono i soccorsi. I testimoni che l'hanno vista affermano di non aver notato alcuno allontanarsi con un fare sospetto. E le telecamere vicine al delitto non sembrano avere individuato qualcosa che possa dare indizi o solamente spunti alle indagini. Ecco perché le ore di immagini registrate e da scandagliare dai carabinieri sono notevolmente aumentate. Non solo l'ora dell'aguato e quelle immediatamente vicine, ma anche quelle risalenti alla settimana precedente. Si vuol capire se Sharon fosse abitudinaria nei suoi spostamenti. L'assassino in questo caso avrebbe avuto un riferimento preciso. Staremo parlando di un'aggressione e un omicidio premeditato, studiato nei particolari, ma che ha un punto di domanda enorme. Perché rischiare di compiere un delitto così efferato davanti a centinaia di finestre e abitazioni, uno dei luoghi più abitati di Terno? Perché non colpire nelle strade più deserte che Sharon ha percorso? Seconda questione. Chi ha sferrato le pugnalate aveva un coltello con sé. Non un serramanico, ma una lama importante, che insieme alla forza delle pugnalate non ha dato scampo alla povera donna. Due le ipotesi. Un malvivente abituale che ha reagito a qualcosa che Sharon ha visto e che non avrebbe dovuto vedere, oppure una persona che la 33enne probabilmente conosceva e che ha portato quel coltello con l'intenzione di uccidere. Gli inquirenti nei prossimi giorni ascolteranno tutti i residenti della zona. Nel mentre è stato arrestato il marocchino che bivaccava nel garage di Via Castegnate. Era in possesso di 30 grammi di cocaina e una buona somma di denaro. Si trova in carcere, ma sembra avere un alibi che i carabinieri hanno già verificato essere plausibile. E appunto Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, è stato convocato oggi pomeriggio al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Dalle 15 si trova nella caserma di Via delle Valli per essere risentito come persona informata sui fatti. Con lui il padre, che l'ha accompagnato in auto. Nessuna indiscrezione sull'interrogatorio già previsto dai militari per il compagno della barista uccisa due settimane fa dai gnoti. Ruocco ha sempre affermato che nel momento dell'omicidio si trovasse nel letto in casa già addormentato da ore. Fatto non smentito dagli inquirenti che hanno visionato le telecamere vicino a Via Morelli dove la coppia viveva. Altra cronaca, due arresti eseguiti dai carabinieri di Bergamo e di Ponte San Pietro ai danni di una donna di 18 anni e del compagno di 32 accusati di maltrattamenti al figlio di lei appena due anni. Ad estare sospetti l'assignalazione avviata dal pronto soccorso dell'ospedale di Ponte San Pietro che nel corso di una visita al piccolo aveva rilevato lividi sul suo corpo. I due arrestati hanno l'obbligo di dimora in un comune della provincia di Foggia. Il bambino invece attualmente è stato affidato ad una comunità. Scattate le manette anche per un cinquasettenne colto dai carabinieri di Ponte San Pietro mentre violava il divieto di avvicinamento alla madre che gli era stato imposto cinque mesi fa. All'uomo era stata inflitta la misura cautelare in quanto si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia proprio nei confronti dell'anziana donna di 85 anni. Il cinquantasettenne è ora nel carcere di Bergamo. Cambiamo argomento. Andiamo a Bergamo, nel parco della Trucca. Sono stati trovati morti i due esemplari di cigni del laghetto. Ancora sconosciute le cause dei due decessi. Gli animali sono stati portati al centro veterinario di riferimento della polizia provinciale per l'autopsia che potrà rispondere ai vari interrogativi circa l'improvvisa morte dei due bellissimi esemplari. L'assessore al verde del comune Ruzzini, anche se la stretta competenza sulla fauna selvatica è in capo alla provincia e alla regione Lombardia, ha garantito che sarà fatta luce sul perché i cigni siano morti. Quindi forse il troppo caldo, forse un regolamento di conti tra i due animali che spesso avviene in natura, anche se non sono state trovate macchie di sangue. Non si esclude anche un possibile avvelenamento. Ed ora il pasticcio finito al TAR, che solitamente risolve le questioni anche più complicate, ma non in questo caso. Ora c'è anche l'appoggio del Parco dei Colli sulla questione del ripristino del passaggio pedonale su Via della Rovere, il passaggio che corre accanto al golf nel quartiere di Longuelo. Il TAR ha recentemente dato ragione ad una mozione dell'associazione Vivere Longuelo, che chiedeva di riaprire il passaggio ai pedoni dopo che il comune aveva interdetto questa disposizione storica. Comune che tuttavia aveva ignorato la sentenza togliendo i cartelli stradali presenti e obbligando i pedoni a transitare sulla strada accanto all'interno del golf, attraversata però anche dalle auto. Ora il parere non secondario del Parco dei Colli, che in una nota invita il comune a considerare e a secondare la sentenza del TAR. Altra notizia, parliamo degli incendi boschivi in Grecia, dell'attivazione del meccanismo di protezione civile europeo, particolarmente colpita Atene e anche il comando di Bergamo si muove, il comando dei Vigili del Fuoco, che è stato coinvolto nella gestione dell'emergenza con l'invio di un contingente composto da sette unità. E state vedendo proprio la partenza di queste unità verso la Grecia, soprattutto verso la capitale Atene. Alle 22 il convoglio del comando di Bergamo, costituito da quattro mezzi di soccorso, autobotte, autopompa, serbatoio, modulo boschivo e camper logistico, si è avviato verso il porto di Brindisi per essere imbarcato poi sulla nave che trasporterà tutti in Grecia. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di vacanze, è la settimana clou di tutto l'anno, vacanze estive, e vediamo dove sono andati, dove andranno i bergamaschi. Si avvicina Ferragosto, periodo di vacanze per molti italiani che in questa settimana si trovano ancora lontani da casa per godersi un po' di meritato riposo. Certo le città non si svuotano più come un tempo, ma le partenze anche solo per concedersi qualche giorno di relax non mancano. Ma quali sono le destinazioni preferite dai bergamaschi? Le mete più ambite per questo estate 2024 sembrano essere le nostre isole del Mediterraneo, in particolare Sicilia e Sardegna, che condividono il podio con il Tacco d'Italia, una delle mete più richieste dagli italiani negli ultimi anni. Riscontriamo che le mete preferite per quest'estate 2024. Per quanto riguarda l'Italia, sicuramente la Sardegna e la Sicilia sono delle destinazioni che stanno riscontrando delle partenze, degli arrivi su numeri considerevoli. Tenuto conto che la forte crescita del Salento di questi ultimi anni è andata via via ad assestarsi su numeri e livelli più umani. Tra le mete dei vacanzieri spiccano anche luoghi lontani. Per quanto riguarda invece le destinazioni legate al lungo raggio, riscontriamo forti richieste per quanto riguarda l'Oriente, in particolar modo Giappone e Thailandia. Anche gli Stati Uniti e i Caraibi si mantengono su un buon livello di richieste. Per i ritardatari, buone notizie. Le offerte per le vacanze Last Minute non sono soltanto un lontano ricordo, c'è sempre la possibilità di organizzare le vacanze all'ultimo momento. Dobbiamo segnalare ancora delle buone opportunità per quanto riguarda i giorni di agosto, quindi non tutti i villaggi sono pieni e ci possono essere delle buone opportunità anche Last Minute da cogliere in questi giorni. E noi cogliamo invece l'opportunità di fermarci per qualche consiglio per gli acquisti. Al nostro rientro parleremo sicuramente di Atalanta, di Supercoppa Europea. Ben ritornati con le notizie di Seida TV News. Parliamo di Supercoppa Europea, in teoria la partita più importante della storia dell'Atalanta, almeno quella più prestigiosa. Abbiamo vinto sicuramente l'Europa League, ma insomma a Varsavia con il Real Madrid chi se lo sarebbe mai aspettato. E bisogna onorare la maglia. Comunque, 6.000 i tifosi a Varsavia. 6.000 i tifosi bergamaschi atalantini che saranno presenti nel PGE Narodowi Stadium di Varsavia in Polonia. Supercoppa Europea, davanti il Real Madrid di Carlo Ancelotti e di una squadra che mette i brividi a leggerla, anche se si parte al contrario dall'ultimo della panchina. Mappè un appendice in una ventina di campioni guidati da un maestro di calcio, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere, anche da calciatore. L'Atalanta del mago Gasperini si presenta in terra polacca con cerotti importanti, alcuni non sorprendenti, come il Bilal Touré lasciato a Bergamo, praticamente mai digerito dal mister e ora sul punto di partenza, nonostante l'infortunio di Scamacca. Altri che arrivano da lontano, come Coop Miners, storia tirata per le lunghe da troppi soggetti, tra i quali i signori procuratori. Poi ci si mette l'infermeria, che oltre a Scalvini priva la partita di Zaniolo, un giocatore che dalle nostre parti dovrà fare la differenza. E allora che si fa? Non si gioca? Tutt'altro, i 24 che saranno della partita onoreranno la maglia, compreso due appena maggiorenni dell'Under 23, che il prato verde di una Supercoppa non l'hanno mai sognato nemmeno ai videogiochi. Non abbiamo nulla da perdere e 4 milioni di euro che la società ha già incassato. Per i tifosi, un'altra serata magica da raccontare ai nipoti, chiaramente nerazzurri. E abbiamo visto lo splendido stadio di Varsalia, che ospiterà la Supercoppa europea tra Atalanta e Real Madrid. Lì la conferenza stampa di mister Gasperini, con un audio così così, ma quello che pensa il mister si capisce perfettamente. L'Atalanta non ha nessuna difficoltà. Viene a giocare una partita di un prestigio incredibile. Lo viene con il suo solito entusiasmo, con la sua solita voglia di cercare di stupire. Quindi ci presentiamo a questa gara che sappiamo è molto difficile. giochiamo contro la squadra più titolata al mondo. Però metteremo in campo tutto il nostro sgoglio, il nostro gioco, tutto quello che sapremo fare per cercare di fare una grande partita. Carlo in questi anni, sotto gli occhi di tutti, penso sia uno degli allenatori più titolati al mondo. L'ha fatto con tante squadre diverse e in paesi diversi. Indubbiamente è un riferimento per tutti quanti gli allenatori nel mondo. E' sicuramente quello che in Italia rappresenta più di tutti l'allenatore vincente. E' chiaro che sulla carta il pronostico è ancora più chiuso di quando lo era con il Bayer Leverkusen, che pur arrivava da una striscia di risultati positivi di tutta la stagione. Questo, se vogliamo, è un ostacolo ancora più grande. Però anche per noi la motivazione è ancora più grande. E quindi nel calcio non succede sempre, ma qualche volta succede anche di sovvertire pronostici. Anche quando siamo andati a Liverpool, quando siamo andati in altri campi, abbiamo accennato con il Bayer, ma anche in questi anni dove abbiamo partecipato anche alla Champions, spesso ci siamo trovati in una situazione magari numericamente non così precaria, però magari sempre con qualche difezione. E noi in questo momento pensiamo, quello che ho chiesto sempre ai ragazzi in quell'occasione, è di fare una bella partita. Per me è fondamentale che la squadra faccia una bella partita senza avere problemi dietro di chi c'è e chi non c'è. E' prontissimo come tutti, arriva dal Genoa. Lui ha giocato già in nazionale certi tipi di partite, però sicuramente questa è una partita stimolante per tutti. Questa è, come ho detto altra volta, è una partita dove una squadra italiana non la gioca probabilmente a 14 anni, che è l'ultima volta che ha vinto la Champions l'Inter, da 25 anni, che è l'ultima volta che il Parma ha vinto un'Europa League. Probabilmente nel nostro campionato non ci sono giocatori che hanno giocato questa partita, o sono rarissimi forse in altre squadre, quindi questo per noi è quanto di meglio ci potesse succedere. E' chiaro che Lortman per noi è un giocatore, non solo per la tripletta che ha fatto in finale, ma è un giocatore importante. Alta, altissima pressione su Bergamo, ce ne stiamo accorgendo un po' tutti. Trebi Meteo! Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo ancora per lo più soleggiato sulla Lombardia, da segnalare però qualche temporale di calore verso sera, a partire dai rilievi che potrà sconfinare anche sulle pianure. Le temperature massime saranno intorno ai 35-36 gradi, in particolar modo sulla Valpadana, con calde d'affa molto intensi. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo c'è l'inprevalenza sereni nel corso della giornata di mercoledì, come dicevo con qualche nota instabile, verso sera sui rilievi. Situazione pressoché analoga, anche nella giornata del ferragosto, splenderà infatti il sole. Con qualche nuvola in più di tanto in tanto, sempre sui rilievi, le temperature massime saranno intorno ai 34-35 gradi. Ci attende infatti un ferragosto rovente. Vediamo ora nel dettaglio che cosa succederà nel corso dei prossimi giorni. Il tempo si manterrà stabile nella giornata di venerdì, nel corso del weekend invece è atteso un peggioramento. Restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo. E fra pochi minuti una grande anteprima a Seila Dea e il ritorno di Patrizio Romano a condurre i programmi dedicati all'Atalanta, appunto un'anteprima in una partita storica contro il Real Madrid. Voi iscrivetevi a redazione a chiocciola www.seilatv.tv Vi auguro una buonissima serata.